stiamo 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 lavorando stiamo creando musica stiamo creando musica allora stai no che cazzo dovevo dire fa un caldo della madonna ha volevo dire che ormai siamo su scherzi a parte stella con questa società di di buffoni siamo su scherzi a parte ormai con si scherzi a parte siamo siamo su scherzi a parte l'inter degli scherzi a parte scherzi scherzi a parte scherzi a parte scherzi a parte ma cos'è qua a 4 db vabbè 4 db normalizza no normalizza la la traccia e via avvia e adesso l'ascoltiamo e io lavoro sempre stella studio e lavoro allora siamo su scherzi a parte siamo su scherzi a parte è certo che ha bloccato tutto ha bloccato tutto ha bloccato tutto perché è umiliante ormai questi arabi non si capisce più vogliono comprare tutti e tutto perché vogliono creare un il calcio mondiale e da quelle parti ma già tanti hanno detto no anche lucaco ha detto no tanti hanno detto no hai capito stella quindi ma mi volete svendere cioè io devo accettare per forza ok allora ci chiudiamo tutti i conti buona uscita e me ne vado cioè hai capito trattamenti ma questi sono trattamenti di una società vigliacca di un di un di un vigliacco che ha accompagnato alla porta d'ambrosio vigliacchi tu dici ma non volevi togliere tutti chi volevo a chi volevo togliere tutti i soliti noti dovevano andarsene in primis zang in primis zang ci sta rovinando la reputazione la reputazione sai cosa vuol dire la reputazione dai che devo finire qua stella cazzo ma è andata clicce clicce lasserestazione cliccando